Si raccusa prove tecniche di solidarietà e cura del bene comune del Parco Robinson. L'amministrazione comunale affida a 50 bambini e ragazze del Parco Robinson di Via Algeri intitolato ai caduti di Nasseria, uno di quelli maggiormente presi di mira dai bandi. L'iniziativa è stata lanciata dall'assessore alle politiche giovanili al verde pubblico Carlo Gradenigo con l'Astac Prendiamocene Cura e si avvale della collaborazione dell'assessorato alle politiche sociali retto da Maura Fontana di Città Educativa dell'Istituto Comprensivo e Chendeme che con gli alunni sta portando avanti il progetto Un Villaggio per Crescere. Sabato prossimo a partire dalle 16 il sindaco Francesco Italia e Assessori consegneranno ai giovani e giovanissimi presenti nel Parco i primi attestati di custodia onorario e le chiavi alle rispettive famiglie lanciando così una campagna di sensibilizzazione per la cura di un bene comune di cui possono godere centinaia di ragazzi in un quartiere della città già carente di servizi. Cominciamo da Via Algeri e dal suo Parco Robinson, dice il sindaco Francesco Italia, ma l'idea di coinvolgere i cittadini e i residenti nella gestione e nel mantenimento delle aree verdi può essere estesa ad altri quartieri. Il messaggio immediato è chiaro, vi diamo la chiave perché ci fidiamo di voi, ma l'obiettivo più grande è di stimolare un senso di appartenenza nei ragazzi del quartiere affidando loro la cura del bene comune che assentano più vicino. Di fronte ai ripetuti atti vandalici ci sembra assurdo, afferma l'assessore Gradenigo, che la soluzione debba essere quella di chiudere con un lucchetto il cancello, come a voler escludere qualcuno generando e incentivando la sfida e il conflitto tra chi rompe e chi ripara. Il Parco è pubblico, ovvero di tutti, ecco perché abbiamo deciso di mantenere il lucchetto e la catena va di donare e affidare 50 copie della chiave ad altrettanti bambini e ragazzi che del Parco sono i principali fruitori e dunque custodi. L'assessore Fontana le consegna da una parte della città ai cittadini il gesto significativo della volontà di responsabilizzare rispetto al bene pubblico. Che gli attori principali siano i bambini, poi è ancora più importante, non solo perché saranno domani cittadini attivi nei processi decisionali, ma perché oggi sono importante veicolo di sensibilizzazione verso gli adulti. Questa, come tante altre attività puntuali, traccia di una volontà comune per una condivisione irrinunciabile.